L'allarme è giunto dal professor Piero Valentini, docente di malattie infettive presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il calore e le vaccinazioni ha comportato un picco di casi di morbillo, specie tra i bambini entro il primo anno di vita e tra i giovani adulti non vaccinati o vaccinati in modo incompleto. Ma qual è la situazione a Cremona? A parlare sono i dati. Nel corso dell'intero 2016, nell'area di competenza dell'ex ASL, si sono registrati in tutto tre casi soltanto. Nel 2017, invece, ad oggi si è registrata un'impennata, 15 casi in soli quattro mesi. Le cose non vanno meglio a livello regionale, dove tra gennaio e marzo di quest'anno sono già stati segnalati 225 casi, un dato decisamente in controtendenza rispetto alla consuetudine. Gli esperti rassicurano però un picco epidemico ogni 3-4 anni è prevedibile, ma solo in presenza di coperture vaccinali inferiori al 95% della popolazione. Come a Cremona, dove la vaccinazione per antimorbillo, parutite e rosolia è scesa dal 97% nel 2013 al 92,7% nello scorso anno. Insomma, la soluzione c'è e si chiama vaccino.